buonasera a tutti questo primo appuntamento del ciclo a tu per tu con i con i classici stasera parlerò dialogherò con giorgio ierano che saluto il tema è dalla divina forniti all'omore liquido l'eros degli antichi e dei moderni il ciclo ha un senso molto preciso vuole essere l'occasione per dialogare con autori autrici della casa editrice che si sono occupati dei temi in discussione con l'obiettivo di mostrare di mettere in luce come i classici espressione con la quale intendiamo in questo caso i classici greci e latini rappresentino uno straordinario repertorio di inizi inizi di punti di riferimento per quelli che sono grandi nodi grandi aspetti della nostra cultura ancora oggi siamo ovviamente perfettamente consapevoli e con questo supero rapidamente l'argomento del fatto che per molti aspetti ci sia una distanza incolmabile tra culture antiche e cultura contemporanea ma ci sono molte assonanze e soprattutto c'è la possibilità questo è il punto questa è la sfida di avviare un confronto un dialogo tra mondo antico e quelle che sono le nostre sensibilità i nostri problemi i nostri punti di vista i nostri modi di sentire un dialogo ricco un dialogo fecondo il tema che abbiamo scelto stasera con giorgio ierano è un tema ovviamente affascinante parliamo di amore nel titolo ci siamo riferiti intesa a l'amore liquido che il titolo di un celebre libro di zygmunt baum da noi pubblicato con grande successo e grande fortuna ma vogliamo parlare in primo luogo dell'eros degli antichi e ehm giorgio ierano che insegna letteratura verità all'università di trento ha dedicato a questo tema un aspetto di questo tema eh un volume che abbiamo pubblicato il mare d'amore eros tempeste neofragi nella glacia antica veniamo subito eh in in argomento ehm giorgio eh eros eh nel nel nostro linguaggio quotidiano eh eh per eros intendiamo in termini molto generici e generali eh un'espressione che indica un'ampia spera della eh nostra vita sentimentale e sessuale l'eros è più come dire una metafora un simbolo un'immagine eh che eh in qualche modo alla quale in qualche modo ci riferiamo eh si può dire che la stessa cosa fosse per i greci cioè chi è eros in primo luogo perché questa è una prima differenza credo fondamentale di confronto di dialettica tra cultura antica cultura greca e cultura contemporanea certo e grazie intanto per per l'invito e sì la differenza radicale sta in questo se ne rende conto credo chiunque legga i frammenti per esempio dei lirici greci dove vede che quando e succede molto spesso si parla dell'esperienza amorosa il fraseggio il lessico che descrive eh l'innamoramento non è mai io amo io mi sono innamorato ma è in genere eros mi possiede eros mi travolge eros mi sconvolge ecco dietro questo lessico c'è un'idea che appunto non è solo letteraria non è solo metaforica ma appartiene proprio alla realtà religiosa sacrale del mondo greco cioè eros è effettivamente una divinità eh come gli dei dell'olimpo è una divinità che ha la sua storia è una divinità a cui sono dedicati dei culti la prima volta che lo vediamo comparire come divinità è in un famoso poema dell'epoca arcaica che è la teogonia di esiodo che è dedicata appunto alle nascite alle origini degli dei ed eros sta lì sta tra le divinità primordiali nasce subito dopo il caos insieme alla terra ma anche nell'esperienza quotidiana eh dei greci eh erano noti esistevano in varie città luoghi di culto santuari di eros ce n'era uno famoso a Tespie che era una piccola città della Beozia nella Grecia centrale c'era un altare di eros ad Atene e da questo altare partivano delle corse dei giovani degli efebi con le fiaccole quindi si facevano delle feste in onore di eros e come ogni dio eros aveva le sue immagini aveva le sue statue e noi più o meno abbiamo presente un' iconografia di eros che è arrivata fino a noi che è quella del bambino del puttino con le ali e associamo in genere questa immagine a un'idea di leziosità e di carinaggine eh in realtà io credo che anche il bambino con le ali nella nella visione greca fosse associato più che altro all'idea dell'insensatezza dell'insensibilità di eros dell'assenza come dire totale di scrupoli e di freni era Freud che diceva che i bambini sono perversi polimorfi quindi non necessariamente raffigurarlo come un bambino è un'idea è un modo per darne un'idea come dire leziosa e garbata ma soprattutto nelle prime immagini non era necessariamente un bambino era un giovane talvolta barbuto era comunque un giovane ai tante e muscoloso per esempio proprio la statua che prassitele uno dei più grandi scultori dell'antichità nel quarto secolo scolpisce per quel santuario di tespi in bello sia ce l'ora figura come un giovane ai tante una sua caratteristica comunque che sia bambino che sia ragazzo è quella di avere le ali e anche questo è un dato su cui spesso non ci soffermiamo però nella mitologia greca i demoni le creature divine che erano provviste di ali erano in genere creature legate alla dimensione della morte delle divinità inferi hanno le ali le arpie che sono questi mostri come sapete che si abbentano con i loro artigli sugli uomini hanno le ali le sirene che nella mitologia greca erano metà donne e metà uccelli e alato il demone stesso della morte cioè sanatos che la personificazione della morte era figurato sempre nell'arte antica come un giovane con le ali al punto che noi a volte non riusciamo a distinguere l'immagine di eros nella scultura nell'arte antica da quella di sanatos e allora iniziamo a capire che questo ragazzo alato prima di diventare il puttino grazioso che che usiamo anche per le feste di san valentino è un demone rapace un demone distruttore un dio che assale che travolge e che con le sue ali arriva all'improvviso e come diceva già omero parta parlando della deafronite travolge la mente anche degli uomini più saggi e del resto in esiodo quando appunto compare come divinità uscendo dal caos primordiale esiodo ci dice verso 116 circa e seguenti della teogonia che eros è colui che doma la mente e la volontà degli uomini e degli dei e poi ci aggiunge un aggettivo che noi ritroviamo in molti testi della poesia greca dedicate a eros l'aggettivo in greco è lusi meles che è un composto con il verbo luo che significa sciogliere dissolvere è un sostantivo mele che significa parti del corpo membra quindi eros è colui che scioglie le membra che dissolve in qualche modo la forza del corpo c'è anche qui un frammento famosissimo di saffo eros di nuovo che scioglie le membra mi sconvolge dolce amara invincibile belva ecco questo lusi meles io ricordo per esempio una vecchia traduzione di ettore romagnoli un illustre grecista di più di un secolo fa che traduceva lusi meles con qualcosa come che dissolve ogni cura nel suo linguaggio arcaico cioè dando l'idea che questo sciogliersi forse qualcosa che come dire avesse a che fare con un certo languore con il languore dell'erotismo ma non è esattamente così perché se noi seguiamo per esempio la traccia di questo aggettivo che troviamo associato a eros nella sua prima apparizione nella teogonia vediamo che questo è un aggettivo tipico formulare per esempio per il sonno altra figura che era rappresentata in genere come un ragazzo alato e fin qui potremmo starci potremmo dire in fondo anche il sonno ci rilassa ci dà una condizione che può essere di riposo se non di beatitudine però se poi andiamo a leggere nei poemi epici nell'iliade quando è che si sciolgono le membra di un uomo beh per esempio nell'iliade quando l'uomo muore quando i guerrieri vengono uccisi durante la battaglia nell'iliade la frase formulare che usò mero è sempre la stessa fu colpito dalla lancia e gli si sciolse il corpo allora qui iniziamo a capire che eros con la sua figura di demone alato con il linguaggio che lo caratterizza è inserito in una costellazione appunto di divinità estremamente minacciose pericolose ciò che accomuna il sonno la morte l'eros è che sono stati di abbandono totale sono stati di non controllo di sé e sono stati in cui l'uomo non è più padrone di se stesso non ha più la possibilità di dominare le sue azioni il suo pensiero ed è in balia di qualcos'altro di una forza superiore esterna di una costruzione oggettiva quindi giorgio in qualche modo possiamo dire che una prima grande differenza meno ovvia di quello che possa sembrare e che eros nella cultura grega è una forza operante così dire nella vita umana è una forza insidiosa e pericolosa però una domanda se vuoi una precisazione che cosa ha questo a che fare con una delle grandi o alcuni dei grandi testi della filosofia greca c'è i dialoghi platonici questo eros l'eros platonico in particolare del simposio e del fedro che cos'è rispetto a tutto ciò che tu hai beh l'eros platonico è in larga parte una straordinaria invenzione ma noi finora abbiamo parlato di esiodo di sappo quindi di testi che stanno nelle tarcaica settimo sesto secolo avanti cristo platone si misura con questi testi con questa tradizione però ci gioca e la rovescia per esempio nel fedro platone dice eros è una forma di mania che cosa significa mania in greco per noi mania significa una fissazione avere un'ossessione per qualcosa di essere maniaco del calcio dello sport e così via mania propriamente dell'essico greco invece indicava la condizione di chi è posseduto da una divinità di chi è posseduto anche qui da una forza sovrannaturale ed esterna per cui platone fa l'elenco di tutte le varie forme di mania lui ne elenca quattro per cui dice per esempio c'è quella poetica per cui il poeta canta non perché lui sia capace di suo di cantare ma perché posseduto da una divinità che è la musa che entra dentro di lui e gli permette di cantare la profetessa di apollo ad elfi la pizia non ha delle virtù particolari ma il dio apollo che entra dentro di lei e lei in virtù di questa mania di questa possessione da parte di apollo è in grado di fare profezie e allo stesso modo dice l'innamorato chi è è uno che posseduto da un dio da questo dio che si chiama eros in questo lui segue perché l'idea che eros sia mania era già stata detto che sia follia ma in questo senso di possessione divina era già stata detta molte volte prima di platone però platone alla fine che cosa ne conclude beh se una possessione divina sei di mezzo una divinità è qualcosa di positivo per cui è meglio essere pazzi che essere saggi perché la follia è sacra e questo è un rovesciamento paradossale del pensiero comune per il quale meglio avere la testa a posto che essere fuori di testa e qualcosa di simile fa nel simposio allora il simposio è straordinario è ovviamente uno dei più bei testi che siamo stati scritti sull'amore questo dialogo che si svolge tra aristocratici appunto durante un un simposio una riunione conviviale e ciascuno di loro offre il suo punto di vista su eros su chi è su cos'è eros però noi spesso siccome questo testo è così straordinariamente bello tendiamo a pensare che rappresenti la cultura greca che rappresenti il punto di vista dei greci ad esempio anche nel libro di bauman l'unico testo che si cita sull'eros dei greci è platone simposio di platone e lì ci sono delle cose che ovviamente ci hanno influenzato pensate il discorso di aristofane quello famoso in cui dice che una volta gli uomini erano come delle palle un'unità rotonda e avevano quattro gambe e quattro braccia e due facce e poi a un certo punto siccome erano esagerati siccome erano arroganti siccome erano fastidiosi zeus li ha tagliati a metà e da allora ciascuno cerca perennemente la sua altra metà e anche noi quando forse oggi si usa meno ma una volta parlavamo della consorte come della dolce metà abbiamo ereditato in qualche modo questa immaginazione platonica oppure quando un altro dei partecipanti al simposio che si chiamava pausania dice attenzione ci sono due tipi di amori due tipi di afroditi ce n'è una volgare pandemius che appartiene al popolo che l'amore puramente carnale sessuale ma poi ce n'è una celeste urania che invece un amore spirituale sublime e anche questo quando tiziano dipinge l'amor sacro e l'amor profano c'è dietro questa lezione platonica il problema è che queste cose prima di platone non le aveva dette nessuno se le inventa lui questa distinzione tra un'afrodite volgare un'afrodite celeste per esempio non esisteva nella cultura greca in precedenza quindi poi platone costruisce questa idea di eros che questa forza che ti porta a trascendere te stesso e ti porta verso il bello ti porta verso il bene ti porta al di là come dire di un orizzonte limitato della della tua esistenza volgare ma è appunto una grande invenzione anticonformista rispetto alla cultura greca del tempo di un grande ingegno torniamo abbiamo identificato questa divinità molto potente ma credo che sia importante definire anche tutti i modi o tutte le maniere di esprimere rappresentare l'amore nella cultura greca se andiamo sul piano del linguaggio eros non è l'amore è in realtà un tipo di amore e come 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 potremmo per così dire descrivere l'arco di espressioni che designano le diverse forme di rapporto amoroso si esatto in effetti tradurre eros semplicemente con amore non è sbagliato ma improprio o quanto meno insufficiente perché eros in realtà propriamente il desiderio e poi per dire l'amore per raccontare quell'esperienza complessa che l'amore i greci in realtà avevano anche altre parole beh uno una persona autorevolissima che ha messo ben in luce questo aspetto e papa benedetto sedicesimo joseph ratzinger che da uomo colto da grande lettore dei classici nel 2005 ha fatto un'enciclica che proprio parte e ragiona sulla base delle differenze fra l'eros degli antichi e l'amore cristiano e questa enciclica che si chiama deus caritas est dio e amore che viene pubblicata nel 2005 e papa ratzinger papa emerito inizia proprio notando una cosa eros nei vangeli è una parola che non c'è non esiste nei vangeli si parla spesso di amore perché cristo è amore ma si usa un altro termine che agape e lui dice sono due termini radicalmente diversi ecco perché perché eros appunto da un lato è il desiderio e la libido è la voglia smaniosa di avere o di ottenere qualcosa per esempio già nei poemi omerici ecco in omero al contrario che in esiodo eros non compare come divinità eros compare solo come nome comune come sostantivo però anche lì è la smania di avere qualcosa che può essere per esempio anche il desiderio di gloria il desiderio di potere il desiderio di combattere però quindi non è necessariamente solo il desiderio erotico e sessuale ma è una smania che ti prende e che non è governabile che ti conduce a voler possedere afferrare qualcosa ed è lo dice il papa stesso ratzinger lo diceva no eros è qualcosa nella mentalità greca che non nasce dal pensare e dal volere queste sono parole sue ma in qualche modo si impone all'essere umano ed esattamente così perché eros non è un sentimento non è un impulso soggettivo non è un moto interiore ma una forza soggettiva un'azione esterna è una schiavitù alla fine la schiavitù appunto del demone che confonde la mente che ti fa perdere la ragione e che ti fa assumere comportamenti che ti portano che portano l'uomo come dire fuori dal suo baricentro dal suo ancoraggio alle regole della razionalità e spesso anche a quelle della della comunità ma è comunque qualcosa sempre di unilaterale non descrive una relazione descrive un impulso poi perché si realizzi la relazione il greco che cosa deve fare deve invocare colei che unica può quando ci riesce tenere a bada anche eros cioè afrodite la deafrodite che di cui eros è seguace e che poi e di cui viene considerato poi anche il figlio per cui noi abbiamo poesie come quelle di saffo che invoca la deafrodite perché scende e lei scende dal cielo con suo carro trainato da da passerotti perché faccia in modo che colei che lei desidera ricambi il suo desiderio e quindi si possa realizzare questa bilateralità del desiderio e si possa realizzare quello che i greci chiamavano a afrodisia le cose di afrodite che concretamente nel rapporto sessuale quindi eros non è sinonimo d'amore non esprime la relazione tra due persone ma solo l'impulso di una verso l'altra ed è un impulso appunto che attraversa la persona non nasce all'interno ma nasce da questo condizionamento invece per indicare il rapporto d'amore inteso come scambio come affetto come relazione i greci avevano altri termini beh uno per esempio era filia che è una parola ricchissima di significati che spesso assume anche il significato di amicizia ma è la relazione d'affetto che può legare due sposi che può legare un genitore un figlio che può legare appunto due due amici è un rapporto di affetto in questo caso reciproco in questo caso liberamente scelto tra due persone non imposto dalla forza sovrannaturale di eros e poi c'è il termine a cui faceva riferimento razzinger agape che il termine che troviamo nei vangeli cioè quando gesù dice amerà il prossimo tuo come te stesso usa appunto il verbo agapao che questo verbo dell'amore come affetto e quando nella prima lettera di giovanni sempre nei vangeli e che la lettera con cui razzinger apre la sua enciclica si proclama che dio è amore e il greco dice appunto dio è agape e quindi questo poi ci dice razzinger no da un lato l'eros come forza esterna come imposizione sovrannaturale come tirannia oscura e terribile e dall'altro l'agape come libero e reciproco patto d'affetto che unisce gli uomini tra loro e che unisce anche dio alle sue creature io mi quindi per me sommessamente ovviamente di fare non una correzione ci mancherebbe ma una piccola aggiunta a quello che dice il papa cioè agape in realtà non è solo però parola cristiana non nasce nei vangeli agape è una parola che è il verbo agapao che troviamo già alle origini della letteratura greca quando odisseo arriva a itaca e penelope non lo riconosce subito perché non si fida e lo mette alla prova come sappiamo alla fine capisce che è veramente suo marito che è tornato e i due sposi si amano sono uniti appunto da filia come come direbbero i greci come dice omero penelope si scusa e dice perdonami se non ti ho mostrato subito quanto ti amavo e usa appunto quel verbo agapao che poi diventa verbo centrale della teologia cristiana dell'amore ma che è verbo già antico e comune in grecia se oggi voi andate in grecia e volete dire a un uomo o una donna che l'amate le dite se agapo che è sempre quello stesso verbo che usava penelope e lo stesso verbo che usava gesù nei vangeli bene giordo adesso veniamo a uno degli aspetti di questo breve tempo che abbiamo di mostrare non solo le tante differenze che ci sono nel linguaggio piuttosto che nella concezione di eros dell'amore ma appunto di soffermarti e soffermarci su come l'immaginario letterario della particolar modo quello grenco perché da questo punto di vista i latini sono come dire successori e dipendenti in che misura la cultura sia un grande inizio nella nel modo di rappresentare i sentimenti d'amore tra persone nello stesso sesso di diverso sesso questo è quello che non sia rilevante è rilevante la modalità con cui questo tipo di soprattutto potenza della dell'amore viene tradotto poi soprattutto in in poesia come questi motivi si siano ampiamente riprodotti nel tempo almeno quasi per così dire un non dico un archetico ma un modello che certamente si può riprodotto nel tempo giorgio microfono microfono perdonate avevo silenziato il microfono no dicevo che esattamente ragione tu cioè che sul fatto che il sesso è assolutamente rilevante nel senso che il linguaggio dell'amore omosessuale quello dell'amore etero sessuale sono sostanzialmente identici nella poesia greca antica e hai ragione nel fatto che poi il vero grande elemento di continuità è come dire quello dell'immaginario poetico e letterario cioè i greci inventano una dimensione letteraria dell'eros e in larga parte se la inventano loro perché c'era per esempio una bellissima poesia d'amore anche presso gli antichi egizi ma spesso usa immagini diverse ecco loro inventano un immaginario che dura nei secoli e che arriva fino a noi il mio libro che che prima è citato che si intitola il mare d'amore è una lunga storia per esempio di tutto l'immaginario erotico che è legato alla dimensione del mare il mare che per i greci era per eccellenza all'elemento instabile infido pericoloso il luogo dei prodigi ma anche il luogo delle insidie in contrapposizione alla stabilità della terra diventa per eccellenza lo spazio simbolico del mare e quindi la forza di eros può essere per esempio paragonato a una tempesta marina l'amante colui che vittima di eros appunto nella concezione greca è rappresentato come un naufrago o come una nave alla deriva sballottata sballottata dalle onde e qui parte tutto un immaginario che arriva poi fino agli antichi fino ai moderni tirso de molina che era un grande scrittore spagnolo e che quello che ha plasmato poi il il mito contemporaneo moderno di don giovanni proprio nel suo dramma dedicato a don giovanni scrive questo verso che io trovo bellissimo e dice una sola lettera distingue mare da amare che è una cosa che a noi sembrerebbe nascere da un'assonanza fra i due termini ma l'assonanza arriva dopo perché in realtà il rapporto fra mare salassa e amore desiderio eros esisteva già nell'antica greca grecia senza che ci fosse assonanza oppure pensate appunto all'idea della nave d'amore che sono dei bellissimi versi di un poeta magari non notissimo quantomeno a livello scolastico che si studia poco a scuola ma era un grande poeta vissuto nel secondo secolo avanti cristo tra l'altro nato nel medio oriente era bilingue parlava anche fenicio si chiamava mele agro e scrive un brevissimo epigramma in cui lui si immagina immagina se stesso innamorato come una nave che però è governata dalle divinità dell'amore per cui dice afrodite il mio capitano eros stiene il timone della mia anima e tutti intorno soffiano i venti tempestosi del desiderio e quando petrarca nel suo canzoniere far scriverà quel sonnetto che si chiacchi che inizia coi versi col verso passa la nave mia colma d'oblio farà esattamente la stessa cosa c'è ancora una volta paragonerà lui innamorato lui amante a una nave in balia dei flutti in balia della tempesta ma questo è solo uno degli elementi l'ho citato adesso perché appunto oggetto delle centinaia di pagine del mio libro dove lo sviscerò in profondità ma pensate anche all'idea dell'amore come guerra e ecco qui appunto ha ragione alessandro la terza spesso i romani sono diversi no questa idea all'amor come la guerre che l'amore sia un grande campo di battaglia so per esempio si trova in ovidio in versi famosi no lui diceva milita tomni samans ogni amante un soldato ma nel senso che in amore bisogna farsi una strategia che poi quella che video stesso per esempio nell'arte di amare affida ai suoi lettori l'amore richiede appunto una strategia un impegno un astuzia pari a quella della della guerra ma invece per i greci l'idea non era tanto questa delle strategie d'amore l'idea era che eros questa divinità terribile minacciosa e come un nemico invincibile che ti viene incontro in battaglia ci sono dei versi bellissimi dell'antigone di sofocle che ad un certo punto il coro e non si capisce bene perché inizia con un meraviglioso inno a eros che inizia proprio con queste parole eros invincibile in battaglia c'è l'idea appunto che lui sia il guerriero contro il quale non c'è scampo e che ti viene addosso e tu lo vedi arrivare ma già troppo tardi perché quando è lì tu sei già sconfitto e quest'idea comunque appunto seppur trasformata ritorna e si prolunga per tutta l'antichità è un curioso e forse insospettabile pigono di questa idea e forse anche inconsapevole era un personaggio apparentemente abbastanza lontano magari dalla dimensione dell'eros cioè napoleone bonaparte questo è un fatto storico cioè nel 1802 ancora prima di diventare imperatore napoleone e primo console di francia egli viene riferito che ben due granatieri della sua guardia personale si sono uccisi per per delusioni d'amore allora napoleone non ci pensa due volte e fa affiggere un ordine del giorno che c'è rimasto nella bacheca diciamo della guardia che è un brevissimo ordine del giorno in tre punti e lui dice il primo console ordina che sia messo all'ordine del giorno della guardia ve lo cito proprio letteralmente che un soldato deve saper vincere il dolore la malinconia delle passioni che ci vuole altrettanto coraggio nel sopportare le sofferenze d'amore quanto nel restare impavidi sotto la mitraglia che abbandonarsi al dolore senza opporre resistenza uccidersi per sottrarvisi significa abbandonare il campo di battaglia prima di avere vinto ora in realtà napoleone era un grande soldato qualche esperienza di eros ce l'aveva avuto e abbastanza infelice specie con la moglie giuseppina che gliene aveva fatto di tutti i colori però ecco in questo ordine del giorno che io trovo fantastico c'è comunque tutta la baldanza del soldato dell'uomo moderno dell'uomo di azione che è convinto di poter vincere la battaglia anche contro eros solo con la sua forza di volontà però forse qui i greci forse sofocle avevano capito meglio la verità quando cantavano appunto di un eros invincibile in battaglia grazie giorgio direi che anzi abbiamo credo già esaurito il nostro tempo però vedo con una cosa dell'occhio che c'è una una domanda nella chat che non so se riesce a vedere ed è una domanda sull'eros nel simposio eros come daimon in che misura può essere inteso come figura tramite tra apollineo e ionisiaco allora in realtà allora anche qui platone parte un po dai dati tradizionali della tradizione greca per poi rovesciarla quindi anche lui dice fa una specie di teogonia di genealogia di eros solo che se ne inventa una del tutto stramba per cui dice eros è un daimon poi bisognerebbe discutere a lungo su che cos'è un daimon perché poi demone già per gli antichi e per noi poi è un essere un po intermedio non proprio una divinità ma un essere non ben definito che a natura divina ma sta un po a metà fra uomini e dei lui dice un daimon che figlio di penia che la povertà e di poros che l'espediente l'ingegno la furbizia e quindi è uno che sente che gli manca qualcosa ma la parte di madre la povertà ma che appunto a questa paternità ingegnosa che lo spinge a raggiungere ciò che non ha ciò che gli manca che non il bene la bellezza così via quindi ne fa effettivamente diciamo un intermediario questa forza che attraversa gli uomini li porta e li trascina verso il bello verso il bene verso la rivelazione la rivelazione della verità che sia un tramite fra dionisiaco e appollineo non lo so di sicuro anche perché anche qui bisognerebbe discutere a lungo di cos'è il dionisiaco e cos'è l'appollineo noi spesso ci rifacciamo a nice mani c'era come platone cioè a sua volta era una figura geniale che conosceva molto bene tutta la letteratura greca perché la insegnava ma poi la reinterpretava un po modo suo quindi quando lui costituisce questi due elementi come due principi opposti in realtà crea un'opposizione che nell'antica grecia non è così netta però sicuramente potremmo dire che eros partecipa della dimensione dionisiaca in quanto partecipa della dimensione della mania della possessione della follia che è principalmente dionisiaca anche se appartiene pure alla profezia pollinia e partecipa della se vogliamo della dimensione dell'apollineo anche in senso nicciano perché comunque legato alla bellezza cioè nella i demoni alati a volte sono brutti le arpie le sirene non sono sono a metà fra il bello e il brutto il seducente ero se bello cioè già nella teogonia esiodo lo definisce bellissimo e la bellezza è come dire ciò che mette in movimento l'eros cioè sempre nelle descrizioni dei poeti antichi si vede qualcosa di bello un bel ragazzo una bella donna e attraverso gli occhi la bellezza mette in moto come dire la la forza del desiderio che vuole possedere quello che è bello quindi se vogliamo in un certo senso possiamo anche anche collegarlo però ecco sia la definizione platonica di eros sia le categorie di dionisiaca appollineo andrebbero forse precisate con dei discorsi su cui adesso temo non ci sia il tempo ecco per per farli compiutamente giorgio ti ringrazio ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito certo abbiamo potuto dare un assaggio di una materia così così vasta e così e così ricca spero che siamo riusciti almeno però a trasmettere l'idea di quanto siamo lontani ma nello stesso tempo quanto siamo vicini a questo grande aspetto della cultura e della sensibilità della grecia antica grazie a tutti grazie